era l'ora del tè poco prima che portino le lampade la villa dominava il mare il sole scomparso aveva lasciato dopo il suo passaggio il cielo tutto rosato soffuso d'un polverio d'oro e il mediterraneo senza una ruga senza un brivido splendente ancora sotto la luce che andava morendo sembrava una lastra di metallo levigata immensa a destra in lontananza il nero dei monti frastagliati si profilava sulla pallida porpora del tramonto parlavamo d'amore discutevamo di quel vecchio argomento ripetendo cose già dette molto spesso la dolce malinconia del crepuscolo rallentava le parole faceva ondeggiare sulle anime come una tenerezza e la parola amore tornando senza posa ora pronunciata dalla voce robusta di un uomo ora da quella lieve di una donna sembrava riempire il salotto volteggiare come un uccello librarsi come uno spirito è possibile amare per molti anni senza interruzione sì pretendevano alcuni no affermavano altri distinguevano i vari casi si stabilivano limiti si citavano esempi e tutti uomini e donne pieni di ricordi improvvisamente vivi e conturbanti che non potevano narrare sebbene salissero alle labbra sembravano commossi parlando di quella cosa banale e sovrana l'accordo tenero e misterioso di due esseri con una emozione profonda e un interesse ardente ma d'un tratto qualcuno guardando fisso lontano esclamò guardate là che cos'è sul mare all'orizzonte sorgeva una massa grigia enorme e confusa le donne tutte in piedi guardavano senza capire quella cosa sorprendente che non avevano vista mai qualcuno disse è la corsica la vediamo così due o tre volte all'anno in eccezionali condizioni atmosferiche quando l'aria perfettamente limpida non la nasconde con quelle nebbie di vapore acqueo che velenano sempre l'orizzonte si distinguevano vagamente le creste pareva di scorgere la neve delle cime tutti ne erano sorpresi turbati e quasi intimoriti da quella improvvisa apparizione di un mondo da quel fantasma uscito dal mare forse ebbero simili strane visioni coloro che come colombo viaggiarono sugli oceani inesplorati un signore anziano che fino a quel momento non aveva aperto bocca disse in quell'isola che sta davanti a noi come per rispondere ai nostri discorsi e riportarmi un curioso ricordo ho conosciuto un meraviglioso esempio di amore costante un amore incredibilmente felice ascoltatevi cinque anni fa feci un viaggio in corsica quest'isola selvaggia per noi è più sconosciuta e più lontana dell'america sebbene qualche volta come oggi si possa vederla dalle coste della francia immaginatevi un mondo ancora nel caos una bufera di montagne separate da forre in fondo a cui scorrono torrenti non pianure ma immense onde di granito e gigantesche ondulazioni della terra coperte di macchia o di grandi foreste di pini e castagni è una terra vergine incolta deserta sebbene ogni tanto si scorga un paese simile a un mucchio di pietre sulla cima di un monte né cultura né industria né arte mai che capiti di trovare un pezzo di regno lavorato una pietra scolpita mai se il ricordo del gusto primitivo o raffinato degli antenati per cose leggiatre e belle proprio questo colpisce di più in quel paese bellissimo e duro l'indifferenza ereditaria per la ricerca della bella forma che si chiama arte l'italia dove ogni palazzo pieno di capolavori esso stesso un capolavoro dove il marmo il legno il bronzo il ferro i metalli e le pietre testimoniano il genio dell'uomo dove i minimi oggetti antichi che si trovano nelle case vecchie rivelano la divina cura della grazia è per tutti noi la patria sacra che amiamo perché ci mostra e ci dimostra lo sforzo la grandezza la potenza e il trionfo dell'intelligenza creatrice di fronte a lei la corsica selvaggia è rimasta tale e quale era il suo principio la gente vive in caserozze indifferente a ciò che non riguardi l'esistenza materiale o i litigi tra le famiglie è rimasta coi difetti e le qualità delle razze incolte violenta astiosa inconsciamente sanguinaria ma anche ospitale generosa affezionata ingenua pronta a spalancare la porta di casa al primo venuto e a concedere fedelissima amicizia al minimo segno di simpatia da un mese giravo per quella magnifica isola e mi pareva di essere in capo al mondo né alberghi né osterie né strade attraverso i sentieri da muri si arriva ai paesetti aggrappati sul fianco delle montagne a dominare abissi tortuosi dai quali so di salire la sera il rumorio continuo la voce cupa e profonda del torrente si bussa alle porte si chiede asilo per la notte e di che vivere fino al giorno seguente ci si siede all'umile desco si dorme sotto quell'umile tetto e la mattina dopo si stringe la mano tesa dell'ospite che ci ha accompagnato fino al limitare del paese una sera dopo aver camminato per dieci ore arrivai a una casetta solitaria in fondo a una stretta valle che qualche chilometro dopo andava a gettarsi in mare le due ripide pareti della montagna coperte di macchia di rocce crollate e di grandi alberi chiudevano come tetra muraglie la tristissima valletta intorno alla casupola un po' di vigna un giardinetto più oltre alcuni grandi castagni insomma di che vivere un patrimonio in quel paese povero mi accolse una vecchia severa e pulita come poche altre l'uomo seduto su una seggiola di paglia si alzò per salutarmi e si rimise a sedere senza dir parola la sua compagna mi disse scusatelo è diventato sordo ha 82 anni parlava il francese di francia ne fui sorpreso le domandai non siete di qui no siamo del continente ma stiamo qui da 50 anni provai una sensazione di angoscia e di paura al pensiero di 50 anni trascorsi in quella gola buia così lontano dalla città dove vivono gli uomini tornò un anziano pastore ci mettemmo a mangiare l'unico piatto della cena una minestra densa in cui erano stati cotti insieme patate lardo e cavoli finito il breve pasto andai a sedermi davanti all'uscio col cuore stretto dalla malinconia di quel paesaggio severo oppresso dall'affanno che a volte si impadronisce dei viaggiatori in certe sere tristi in certi luoghi desolati sembra che tutto stia per finire l'esistenza e l'universo ci accorgiamo allora all'improvviso della spaventosa miseria della vita dell'isolamento di tutti del nulla di tutto della cupa solitudine del cuore che ci culla e ci illude nei sogni fino alla morte la vecchia mi venne vicina e tormentata da quella curiosità che continua a vivere anche negli animi più rassegnati e così venite dalla francia mi domandò sì sono in viaggio di piacere risposi siete di parigi no di nancy mi sembrò agitata da una straordinaria emozione non so proprio come lo avessi visto o piuttosto sentito ripete quasi sillabante siete di nancy l'uomo comparve sulla porta impassibile come sono i sordi lei riprese non importano non sente poi dopo qualche secondo allora conoscete gente di nancy ma certo quasi tutti la famiglia di saint alias si benissimo erano amici di mio padre come vi chiamate glielo dissi mi guardò fisso poi pronunciò con quella voce profonda che i ricordi traggono dal petto sì sì me ne rammento e i brismer che cosa fanno sono tutti morti ah e i sirmo li conoscevate sì l'ultimo di loro è generale allora lei fremente di emozione di angoscia di non so qual sentimento confuso possente e sacro di non so qual bisogno di confessare dire tutto parlare di quelle cose che fino allora aveva tenute rinchiusa in fondo al cuore di quelle persone il cui nome sconvolgeva l'anima sì disse henry de sermont lo so è mio fratello sorpreso alzai gli occhi verso di lei e all'improvviso ricordai quel fatto aveva suscitato un grosso scandalo un tempo nella nobile lorena una ragazza bella ricca susanne de sermont era stata rapita da un sotto ufficiale degli usseri nel reggimento comandato del padre di lei era un ragazzo figlio di contadini ma ma il dolman azzurro gli stava meraviglia e così sedusse la figlia del suo colonnello e la lo aveva visto lo aveva isolato dagli altri amato guardando lo sfilare con lo squadrone ma come aveva fatto a parlargli come aveva potuto vedersi mettersi d'accordo come aveva osato lei fargli capire che lo amava nessuno lo seppe mai nessuno sarà accorto di niente una sera quando l'ufficiale ebbe finito la ferma scomparve con lei ricercarono senza riuscire a trovarli della ragazza non si ebbero più notizie e la considerarono morta e io la ritrovavo così in quella lugubre valle ripresi a parlare sì ricordo siete la signorina susanne assentico il capo le scendevano lacrime dagli occhi allora indicandomi con lo sguardo il vecchio immobile sulla soglia della rustica abitazione mi disse è lui e compresi che lo amava ancora che lo vedeva ancora con gli occhi affascinati le chiesi siete stata felice almeno rispose con una voce che veniva dal cuore oh sì tanto felice mi ha resa tanto felice non ho mai avuto un rimpianto la contemplavo triste sorpreso sbigottito dal potere dell'amore una ragazza ricca aveva seguito quell'uomo un contadino ed era diventata contadina anche lei si era adattata a una vita priva di grazia di russo d'ogni genere di raffinatezze piegandosi a rozzi costumi e lo amava ancora era diventata la moglie di uno zotico portava la cuffia e una gonnella di tela mangiava in un piatto di terracotta su un tovagliolo di legno seduta su una seggiola impagliata una minestra di cavoli patate e lardo dormiva su un pagliericcio ma vicino a lui non aveva pensato che a lui non aveva rimpianto gioielli belle stoffe vesti eleganti né morbide poltrone né depore profumato delle camere a volte da tendaggi né soffici letti dove affondare il corpo per riposare solo di lui aveva sentito bisogno purché fosse presente non desiderava nulla giovanissima aveva abbandonato la vita il bel mondo quelli che l'avevano allevata ed amata egli era stato tutto per lei tutto ciò che una donna desidera che sogna che aspetta senza posa che spera instancabilmente aveva riempito di felicità la sua vita dal principio alla fine non avrebbe potuto essere più felice e per tutta la notte ascoltando il respiro rauco del vecchio soldato straiato accanto alla donna che lo aveva seguito così lontano pensavo a quella strana e semplice avventura a quella felicità così completa fatta di tanto poco all'alba partì dopo aver stretto la mano ai due vecchi sposi il narratore tacque disse una donna non conta aveva un ideale troppo facile bisogni troppo primitivi esigenze troppo semplici non poteva essere che una sciocca un'altra scandì lentamente che importa è stata felice e laggiù in fondo all'orizzonte la corsica affondava nella notte si ritirava lentamente nel mare cancellava la sua grande ombra apparsa come se lei stessa avesse voluto raccontare la storia dei due poveri amanti rifugiati sulle sue spiagge